Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Oggi vi presento Zelos 50W kit By Aspire Adesso lo andiamo a vedere nel dettaglio Ed eccoci qua ragazzi Con l'Aspire Zelos 50W kit Andiamo dietro lo scatolo Ci dice subito il contenuto Quindi uno per Zelos 50W mod Un Nautilus 2 tank Con le testine prefatte da 0.7 ohm già installate Uno per... c'è un extra drip tip Un altro vetrino di ricambio Un cavo micro usb Un'altra coil prefatta da 1.8 ohm Gli o-ring di ricambio che sono 8 Manuale d'uso E una carta della garanzia Adesso andiamo ad aprire E vediamo La box e l'atomo nel dettaglio Questa è come si presenta La box E l'atomizzatore E dentro troviamo il manuale d'uso La prima lingua che troviamo è l'inglese Per finire in una specie di italiano Dico come una specie Perché Cioè guardate la traduzione Sebatoio Nautilus 2 Punta a goccia extra Tubo di vetro extra Comunque eccetera eccetera A parte gli scherzi Adesso Poi vabbè Quello che vi ho detto prima Lo troviamo tutto Qui dentro Voglio ring Coil Drib tip Vetrino E cavo usb Perché si carica Tramite l'usb E' contemplato anche il controllo della temperatura In questa box Quindi C'è la funzionalità SS Vediamo se la vado a trovare qui E allora C'è bypass Temperature control Eccetera eccetera Adesso andiamo ad accenderla E ve la faccio vedere In questo caso è bloccata Una cosa simpaticissima Che ho notato appena ho presa in mano E' che In base a dove uno la gira Automaticamente La scrittura comparirà Sia per i mangini Quindi per I destri Guardate Simpaticissima Quindi con i soliti 5 tocchi veloci Si sblocca Parte da 1 watt E va a finire a 50 watt 50 watt In questo caso non c'è L'atomizzatore Già sopra Quindi ci segna 9.99 ohm E 0.0 volt Questa è la presa usb Questa è la presa usb Fuori di sfiato Per la batteria Che comunque è inclusa E niente Adesso L'accendiamo Vi faccio vedere Come funziona Il controllo della temperatura Al solito Tornando premuti Tasto più e il meno Insieme Andiamo in watt Temperature control Stileness still C'è acciaio Titanio Nickel E basta Poi andando indietro Si va di nuovo In watt Premiamo allungo Per bloccarla Sempre i soliti 5 tocchi 1,2,3,4,5 Un attimo 1,2,3,4,5 E si blocca In questo caso Per spegnerla Si tiene premuto Allungo 3 secondi E il sistema Dice system off Si spegne Semplicissimo Per riaccenderla Sempre i 5 tocchi E si riaccende Già Siamo a posto Adesso vediamo L'atomizzatore Che è il Nautilus 2 Simpaticissimo Ottimo Per il tiro da guancia Lo montiamo Già Sulla box Questi sono I fori di sfiato Molto utili Si va dal più grosso Al più piccolino In base Al tiraggio Dell'aria Che vogliamo Per svitarlo Si svita La campana Superiore E troviamo Già Il tank Vero e proprio Che possiamo Togliere E la coil Che in questo caso È quella che già troviamo Di fabbrica Che è una 07 ohm Quindi ci dice Che possiamo andare In un range Da 18 Fino ad arrivare A 23 watt Vedo se si vede C'è scritto 07 ohm Da 18 A 23 watt Al solito Per inizializzarla Prendiamo il liquido E lo facciamo Entrare dentro In questo caso Sto usando un tabaccoso E bagniamo Per bene La testina All'inizio Poi dopo Non c'è bisogno Di fare questo lavoro Anche nei forellini Cerchiamo di fare Entrare un po' Di liquido In modo tale Dobbiamo Steccare Poi dopo Andiamo di nuovo A bagnare Per bene Questo passaggio È fondamentale Ok Montiamo il tank Aggiungiamo il liquido Va bene È già così Non lo riempiamo troppo Che se no Facciamo danni Ed ecco qua Montato La Spire Adesso lo settiamo Sulle 20 watt Così siamo più tranquilli Facciamo qualche tiro a vuoto Prima Notare che arriva A pescare Allora Allora ragazzi Ovviamente Per chi ama Il tiro da guancia Il Nautilus 2 È la fine del mondo E devo dire Che anche a me Non sta facendo Una cattiva impressione Sto cominciando Ad amare Il tiro da guancia Quindi Cioè La combo è Piccolissima Maneggevole In mano Lo scompare Si può caricare Semplicemente Col Cavetto Quindi Tranquillo È da viaggio Ovviamente Se viaggiate State attenti A non tenere Troppo livido Se no Vi arriverà a perdere Oppure chiudete Le prese dell'aria Comunque sia È molto aromatico Il Nautilus 2 Poi Per quanto L'ho pagato Tra l'altro Il gioco vale Davvero La candela L'ho preso Sulle 30 dollari Su Gearbest Davvero Davvero Eccezionale Cioè Per il momento Non trovo Difetti Questa piccola Box Questo kit Davvero Fatta bene Wow Niente da aggiungere Secondo me Per quello Che costa C'è Chi ama Il tiro Da guancia Una combo Del genere La deve Provare Assolutamente Tenere sempre accanto Tenere sempre con sé Perché secondo me È la soluzione Definitiva Niente Tutto quello che ti danno Quindi Atom Box Tutte le istruzioni La garanzia Il cavetto Gli o-ring Il vetro di ricambio Molto utile Perché se ti cade Ovviamente Di ricambio Conviene Conviene Assolutamente Detto ciò Ragazzi Vi saluto Vi do appuntamento Al prossimo video Come sempre Se vi va Lasciate un mi piace Adesso metterò io Il link In descrizione Di questo prodotto Direttamente Da Gearbest Iscrivetevi al mio gruppo Facebook Vape Sicily Seguitemi su Instagram E anche su Facebook Ho la pagina Vape Sicily Che è in fase di modifiche Davvero ottimo Vi faccio l'ultima Svapata Insieme a voi Vi saluto Ciao ragazzi E al prossimo video